Ragazzi, voi lo sapete che su Minecraft ci sono vari tipi di armatura, no? C'è quella di pelle, c'è quella d'oro, c'è quella di diamante, eccetera, eccetera, eccetera Ma se vi dicessi che sta per arrivare una nuova armatura Buona visione Eeeh... Buongiorno a tutti e ben tornati in questo nuovissimo video Io sono CriccioCentata7 e siamo con oggi, ragazzi, tornati con un nuovissimo video Informazione, aggiornamento Questo video è un po' diverso dal solito perché quello che vi dirò oggi potrebbe stravolgere completamente le vostre aspettative su Minecraft Quindi, hashtag, aggiornamento nei commenti, mi raccomando, scrivetelo tutti, vi commento tutti, rispondo a tutti, non vi preoccupate E cosa più importante, ragazzi, un bel pollicino in su per nuove informazioni Quindi cliccatelo adesso, mi raccomando, per nuove informazioni Perché voglio raccontarvi un bordello di cose nuove che sono uscite in sti giorni Che sono trapelate in sti giorni E soprattutto, poi, fatemi sapere il vostro commentino Il vostro parere Quindi scrivete poi quello che ne pensate Detto ciò, saluto le 5 persone che mi hanno seguito su Instagram in sti giorni Sono diventato attivissimo, vi sto rispondendo Quindi, mi raccomando, passate sul profilo che trovate nel link in descrizione Saluto Simo, Slender, Massimiliano, Yurtube e Panuzzo Bella ragazzuoli, un saluto a tutti voi Se anche voi volete essere salutati, passate sul mio profilo che trovate in descrizione Cristian, trattino basso, Pignataro, trattino basso su Instagram Detto ciò, non perdiamoci in chiacchiere e procediamo Perché oggi devo farvi vedere delle cose molto interessanti Ne approfitto per dirvi che domani dovrebbe uscire un video di Fortnite Mentre, se vi siete persi i due video di questa settimana Uno è uscito alle 21 ed è un video solo per i veri giocatori di Minecraft Perché è un po' particolare Ve lo lascio qua sopra e invece ho fatto uno scherzo ai miei compagni della Togethercraft Sono trapelate fuori delle informazioni che ci hanno passato sotto il naso E noi non abbiamo notato Allora, innanzitutto, partiamo da quello che si vede in evidenza Vi ricordate questa foto? Vi ricordate? Torniamo all'argomento update acquatico, quindi l'aggiornamento marino Vi ricordate le uova di tartaruga, le tartarughe, eccetera, eccetera, eccetera Sì, tanta tanta roba, bellissimo Ok, come vedete ci sono le uova E in... l'ultimo uovo che vedete proprio in fondo da questa parte di qua Vedete che si sta per rompere? Vuol dire che appunto si potrà schiudere solo in quel momento lì c'è Che quando inizierà appunto a spaccarsi si sta per schiudere La tizia che gestisce appunto queste informazioni che si chiama Lady Agnes su Twitch, su Twitter Ha detto una bella cosa che non è molto bella in realtà Ha detto che le uova si schiuderanno esclusivamente di notte Quindi noi di notte, con i mob, dovremo uscire e andare ad aiutare le piccole tartarughine a raggiungere il mare Quindi ok, è figa come cosa ma ci aggiungerà delle difficoltà Però noi non ci preoccupate, noi ce la faremo Detto ciò, cosa è successo che ha stravolto tutta la community di Minecraft? Guardate un po' questo Sta girando sui profili Twitter questo tizio che in sé per sé non dice niente Tranne che una cosa Guardate bene il caschetto Il caschetto di questo qui Inizialmente pensavano fosse una semplice skin di un tizio È molto casuale, niente di speciale E invece vi dico una bella cosa ragazzi È saltata fuori la teoria anche sui YouTuber americani Ne stanno parlando tantissimo sui forum e tantissime altre cose Che molto probabilmente Molto probabilmente ragazzi verrà aggiunta una nuova armatura su Minecraft Ora prendete tutto questo con le pinze perché sono solo teorie E stanno cercando appunto di farci trapelare alcune informazioni Però dopo vi confermerò le idee Quindi prima vi spiego Commentate e poi vi faccio vedere una cosa interessante Comunque cosa stavo dicendo Guardate un po' il caschetto Ora è semplicemente un caschetto Potrebbe essere che al posto di fare tutta l'armatura Potranno fare solo degli accessori Come il caschetto della tartaruga Che pensiamo ci potrebbe servire appunto A agevolarci durante le escursioni nell'acqua Perché come ben sapete ci sono solo le pozioni Che ci permettono di andare per gli oceani Stare sott'acqua Mentre con un caschetto della tartaruga Potremmo avere delle cose un po' particolari Come se fosse un caschetto protettivo Che ci permette di andare sott'acqua tranquillamente O semplicemente di vedere bene sott'acqua Non lo so Potrebbe avere le sue caratteristiche speciali Detto ciò però Queste sono solo teorie Come ben direte voi Però Vi è sfuggito in particolare Come è sfuggito anche a me in sti giorni Vi ricordate la prima foto che vi ho fatto vedere Che è anche una delle prime foto che ho visto io Questa qui Guardate bene questa foto E ditemi cosa notate ragazzi Scrivetelo subito nei commenti La prima cosa che notate di strano Che non avevate notato 5 secondi fa 5 secondi fa Prima di vedere appunto questo punto qui Bene Se ci siete arrivati Se non ci siete arrivati Ve lo faccio vedere io Esattamente qua sotto di me Vedete che c'è il blocco di sabbia Il blocco di terra E in mezzo a questi due blocchi C'è una cosa un po' particolare Guardatela bene Guardate bene che cos'è L'avete visto? Aspettate che ho sbagliato Eccolo qui Guardate un pochino ragazzuoli Guardate un pochino qui Cosa c'è di nascosto sotto Vicino ai blocchi Guardate cosa c'è Vi ricorda qualcosa? No no ditemi Vi ricorda qualcosa? Vi assicuro non è la tartaruga Perché come abbiamo visto dalle immagini La tartaruga ha una colorazione diversa Che è uguale Vedete le uova che hanno quei puntini La colorazione della tartaruga È identica a quei puntini Di quel colore lì Quindi quel azzurrino turchese Un po' acceso in quel modo lì Mentre qui È esattamente il caschetto di tartaruga E guardate un pochino Come ci stanno facendo Trapelare queste informazioni Ora si parla solo di caschetto Ma già sentivo persone Che mi dicevano dell'armatura Io non credo ci sia tutta l'armatura completa Ma mi accontenterei semplicemente del caschetto E quindi ragazzi Io vi ringrazio tantissimo per la visione Vi invito a lasciare un bel pollicino in su Ad iscrivervi al canale se ancora lo avete fatto Passate su tutti i miei social Che trovate in descrizione E mi raccomando Attivate la campanellina delle notifiche Con il naso Provate ad attivarla Attivatela così finché non l'attivate Fate attenzione Però non farvi male Detto ciò Vi invito a passare anche sul profilo telegram Che trovate in descrizione Che è un profilo dove potrete chattare Direttamente con me Quindi mi raccomando Vi informo che sono tornate online Le magliette degli zingari del canale Che trovate in descrizione E anche per diventare sponsor Tutto in descrizione Detto ciò Io vi ringrazio ancora tantissimo per la visione Domani ci becchiamo alle 14.30 O alle 11.30 Rimanete informati sui vari social Per i vari orari Probabilmente in queste vacanze Faremo una bella live Quindi mi raccomando Scaldate le playstation Vi ringrazio tantissimo E che dire Noi ci becchiamo Nel prossimo video Ciao Ciao